ed eccoci al classico appuntamento serale apertura di cinque bustine figurine calciatori vediamo cosa ci portano il regalo questa sera benissimo iniziamo subito icardi e iseric berami bonus cosenza e renato dall'ara bologna andiamo avanti seconda bustina vediamo se arriva qualcosa di consigli sassuolo gobbi parma derun questa è brava questa mi manca ottimo è ottimissimo due figurine serie b della cremonese incredibile perché quest'anno la serie b latita difficile da trovare andiamo avanti già vedo una maglia granata berenguer marcano roma d'ambrosio inter frosinone e la formazione della roma bella questa mi manca altra maglia giallorossa kolaroff luperto napoli ciano frosinone bonus e altre due guarda brescia e brescia che strano queste bustine le figurine da serie b uguali della stessa squadra due dusan basta ospina napoli pestina atalanta bonus una della serie b padua la maglia del milan interessante bene io cosa dire se volete commentare il video e magari vi serve qualche figurina volete chiedere qualche doppia sono disponibile ad effettuare scambi per corrispondenza quello poi ci mettiamo d'accordo come come viene meglio a voi non mi resta che augurarvi una buona serata